Siamo in via Nitti, angolo via Pitagora, vedete qui che scempio, mattoni completamente rotti, quindi si è verificato uno sprofondamento, guardate qui, andiamo proprio a finire sotto il livello del marciapiede, una situazione che giace così da almeno 20 giorni, nessuno si è degnato di intervenire, neppure una transenna, questa è la rinascita di cui parla Rinaldo Melucci. Io nel mio programma avevo indicato e tuttora mi batterò perché venga istituito un servizio, io l'ho chiamato pronto intervento, pronto soccorso H24, di modo che una squadra di tecnici in uno o due giorni interviene per risolvere quei problemi di ordinaria manutenzione. Qui non ci vorrebbe niente mettere un po' di cemento, eventualmente capire qual è la problematica per la quale c'è stato questo sprofondamento, però il problema con una bella battuta di cemento, un bel massetto si risolverebbe e si risolverebbe in poco tempo. Questo è un intervento che richiede una tempistica di un paio di giorni, due o tre giorni proprio esagerando, invece nulla, si rompe qualcosa e rimane così. Ecco un'amministrazione che è completamente lontana dai cittadini, ecco la necessità di ripristinare le circoscrizioni, il decentramento, perché se no già ci sarebbe stata una funzione di filtro importante e determinante in questo senso. Questa è la transizione urbanistica, culturale, ecologica, chi più ne ha più ne metta. Oramai le aggettivazioni che usa Melucci rispetto alla parola transizione sono infinite. La realtà è questa, la realtà è che il cittadino guarda questo scempio e se non sta attento ci va a finire dentro. E a pochi metri di distanza dei mattoni, uno in particolare che è sprofondato, c'è un dislivello pericolosissimo perché qui è facilissimo e inevitabile inciampare. Potrebbe sembrare una cosa da poco, lo è, perché si può risolvere in un batter d'occhio, però immaginate quanti danni si creano, immaginate quante persone anziane possono inciampare, cadere e rompersi un femore. È tutto da Melucciopoli, la città della rinascita, quella rinascita che Rinaldo Melucci dice che sta seminando. Grazie.